Un gioco horror... Le mie orecchie! Sono Pazzox e siamo in un nuovo gioco horror! Finalmente un nuovo gioco horror! Un nuovo gioco horror! Porca miseria! Basta con Final Fantasy! Basta! Un po' di sfogo personale! Basta Final Fantasy! Che lo fatti davanti un casino! Ok... Please... Io ho scaricato la... La vedete! Hector! E' iniziato il gioco, si! Perchè è un nuovo gioco horror! Che ho visto che quasi si era... Atlas! Credo eh! Non lo so! Solo i Screenshot! Che sei! Ok... Oh minchia! Proietti... Ah no! Oh mio Dio! Ho visto... Comunque... E' una versione americana ve lo dico eh! E' in... Totalmente americana! Quindi se c'è qualcosa da tradurre... Ve lo... Vi voglio! Non so ci c'è l'italiano eh! Mi spiace! Ma penso che ci sia solo in inglese! O... Ok... Perchè miseria! Ah... Cos'è quella roba? Cos'è? Ah... E' la roba per... Il tuo vicino! Ok... Come sto dicendo ogni gioco... Porca miseria! Che cazzo è? Eh! Come sto dicendo ogni singolo gioco horror! Ovviamente devi iniziare col buco del culo! Che noi siamo malati! Oppure siamo da qualche parte! Che cazzo è un accendino? Si mi sa che... Proprio un accendino! Ok... Quindi che dire! Se questa serie vi piacerà! Noi andremo avanti fino all'altra tomba qui! O dove ci porterà il gioco giustamente! Oh mio dio! Sembra Vanish! Così! E' già un... Una cosa ver... Ok! Old C... L... Dai! Ok! Ok! Possiamo andare? Si! Ok! Oh mio dio! Destra o sinistra! Eeeh... Premi 3 per equipaggiare... Le pillole! Ok! Premi F per consumare le pillole! Ok! Un po' incasinato! Ok! Mi devo un po' incasinare le dita! Però si può fare! Si! Però non è che posso camminare con le due mani così come un... Un... Il Papa qua! Eh! Però... Tevi stai sfocati di merda! Sinistra o avanti? Sinistra no? Si! Andiamo a sinistra! Odio i giochi bui! Io... C'ho una pillola! C'ho delle pillole! Non ho paura di usarle eh! Eh! E' anche un accendino eh! Ok! Ma... Ma è un lupo? Cioè nel senso sono di tornare indietro? Odio le cose il lupio! Corri! Corri! Ok! Muro! Devo... Dovrò aumentare la... La lungosità! Porca miseria! Che cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Cucchiaino! Ciao! Che roba è? Ah! Altre pillole! Ok! Ma cosa mi servono le pillole? A curarmi? Non credo! O ci sarà tipo amnesia che devo... La mente mi si fu... Non ha trovato il lupo! Oh no! Si ripetono le stanze! Che palle ste cose! Che palle! Ok! Qui si è fermato tutto! E c'è un vicolo cieco! Ok! Mi sta mettendo ansia sto gioco! Perché... Eh! Ha una bella atmosfera! Ha una bella atmosfera! Pensiamo di tornare a... Vicolo cieco! Mi 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 rendi pericolo! Eeeh... Non dimmi una tratta di vicolo cieco! No! Ok! Mi sto cagando! Ah! Posso fare un po' come amnesia? Ciao! Ok! Perfetto! Quindi è un po'... Nonno! Sono di nuovo qui! Dove sta il cucchiaino? Luce! Cosa? C***o di merda! Non si apre! Mi serve la chiave! Che c***o c'è? Ma è cambiata la stanza! Porca miseria! Mi cago! Mi cago sotto io! Non ci posso fare niente! Quando i giochi sono fatti bene mi cago! Porca miseria! Cosa ci sarà qui? In questo gioco? Killer? Zombie? Fantasmi? Mostri? Che ti inculano? Non lo so! Oh mio dio! Bambole assassini? Probabile! Oh porca miseria! Non so che sto rumore! No eh! Già incontro i mostri! Adesso inizio che impre... No! Eh! No! 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 Ok! Torniamo qua perché... Ok! Stiamo qui a perdere tempo come un coglione! Perché non sto capendo! Eh! Cos'è? Che cos'è? Un po' di due! Due! Ok! 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 Cell block! Oh mio dio! I terremoti! I grandi terremoti! O qualcuno ha scorreggiato da sopra! Probabile! Non si apre questa! No! Cosa? Sento grandi ruggiti! Grandi musiche che mi vanno dentro gli uditi! Oh mio dio! Eeeh! Che devo fa? Che devo fa? Cioè me lo dite voi! Che devo fa? Io non ci capisco in questo gioco! È nuovo! Davvero! Penso che sia nuovo! Eeeh! Forse sono il primo che gioco con la webcam forse! Non ho ne idea! Oh mio dio! Oh mio dio! Preferivo fa Night! Perché mi sono cacciato in questo guai di questo gioco! Cosa? Non voglio! Funzionano? Teppu! Ok! Si accendono eh? Oh yeah! Questa! È la cazzone! Red pippa! Cazzogli! Oh! Stavo andando a ritmo! Mi sa che non posso vedere le telecamere Shai! Ci sono i cattivi fuori! Non posso fare più niente! No! Vado su suono! Fattoni la caga! Cosa? Cosa? Trova? Full! Piena! Ok! Accendi il fuoco e accendi l'acqua! Non l'ho sentito bene! Scusi! Porca se si suoni! Ecco cosa delle videocassette! Ah! Inseriamo le videocassette! Ok! Stand by! Aspettiamo! Pillole! Vieni a me! Ok! Sai che le pillole mi servono quello stato mentale! Non so! Perché a volte ve l'ho sfocato improvvisamente! Che cacchio devo fare! Guardi! Resistra! Oddio! Quindi! Eh! C'è qualcuno lì! C'è qualcuno! Ho visto qualcuno! C'è una bambina! Un fantasma! Sì! C'è un fantasma lì alla penultima lì sotto! Ok! Porca puttana lo spavento! Non molto spaventoso ma mi sono cagato! Un topo! Ok! Non ho più la loro possibile! Un topo! Molto ben disegnato eh! Ok! La risposta è qua! Ok! Quindi! Cazzo devo fare! Ah! Si apre! Cosa c'è? Una torcia! Una torcia! Cazzo! Mi serviva! Poche parole da quello che diceva il blocco note lì a fianco alla torcia! E quindi! Avendo un accendino! Avendo la torcia che cazzo... Ah! La pila! Ok! Ok! Ho ricaricato la torcia! Ok! Stavo capendo più o meno come funzionava! E non ci ho capito! Una sega! Sega! Devo andare al buio! Sto capendo io! Oh! Oh! Ecco qua! Adesso vedo un po' meglio! Diciamo! Un po' meglio! Però la torcia mi ha sempre ansia eh! E' molto più atmosfera la torcia che una semplice accendina! Una semplice accendina! Molto italiano! Sti suoni però! Cosa? Cosa cazzo è successo? Mi cago! Cosa cazzo è successo? Mi cago! oh mio dio si trova una bambina una sola ora si apre questa si apre è il momento di vedere che cacchio c'è dopo questa porta si però ho sempre sti problemi ad aprire le porte non ci riesco posto ah tutto all'incontrato vaffanculo porta torce e accendino tutto di più e non ho paura di sal porca puttana vaffanculo il tempo si sminchia pillole pillole cazzo come si sentono i drogati corro io corro con la neve che mi va in faccia ok siamo in una specie di teatro ok molto strano e spero che non ci siano clown perché io ho la caga di clown quindi clown e clown già che poi tra l'altro se notate nella mia stanza si è fatta abbastanza buio un camion sta arrivando camion come si è fatta abbastanza buio Che bastardi Ok Che E' una specie di L'altro alberinto qua Odio l'alberinto Non vedo niente Non vedo niente Non vedo niente Cos'è? Cazzo La caga io però Prendo sto coso Cos'è una torcia? Posso aprire? Buongiorno Minchia Oh me ne ho chiuso dentro Ovviamente Direi di aprire questa porta Direi di andare da un'altra parte Questa si apre Per niente Oh io c***o Perché Te no Ci metto mezz'ora Per arrivare qua Ok si scende Voglio scendere Per emergenze Ok Non si apre Ale Oh yeah C'è scritto qualcosa Note Tony smoke's a gift Ah beh E' uno scotrino Grazie 6 dollari 39 Pietesimi Perfetto Ok Ok Ho aperto qualcosa Ok Ho fatto qualcosa Cosa ho fatto? Io non ho più le pillole però Ho più l'accendino Qualcuno ha scorreggiato? Eh? Eh? Oh! Oddio Chi c***o era quel dito di Call of Duty? Dove mi trovo? Oh c***o Beh bevi Anzi Mangia mangia Molto molto Però non l'ho avuto le pillole E c'è qualcuno che mi ha sparato O a meno O a meno che non mi ha Oh Oh Finalmente ho capito che c***o c'era davanti a sto collo Oh E adesso può partire Finalmente Ho paura che C***o Non so che devo trovarti Paura adesso che c***o succede Se apro tutto e due i generatori Ok Andate, andate, andate Oh, luce Questo si apre? Per niente Ah, ecco, si apre, si apre, si apre, si apre Perfetto Buongiorno, mondo Sinistro-destra Sinistra Perché non mi fa la mano per aprire? Ok, che cazzo è qui, una mensa? No, ma è la prigione qua Oh, mio Dio, sono un genio, dopo mezz'ora Mi sono reso conto che sono in una prigione Più o meno, penso Ho un manicomio Blocco note Oh, mio Dio Ui Madò Graffio, comunque Aprete Ok, luce Ok, andiamo avanti Ah, che dire Ci vediamo al prossimo gameplay Come sempre, a dolcissimo e calmissimo Ci vediamo alla prossima parte di Hector Eh 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 Grazie per la visione!